Ciao, sono Andrea D'Amato, ho 24 anni, vengo da Torino e l'idea della mia applicazione è di un'app che possa segnalare quanti parcheggi liberi ci sono in tutti i parcheggi sotterranei delle grandi città e che possa, se è possibile, anche rilevare i parcheggi liberi per strada, quindi tramite magari una geolocalizzazione rilevare chi esce e chi entra dai parcheggi pubblici normali a pagamento. Sia per risparmiare tempo che per risparmiare anche benzina ovviamente, senza girare a vuoto due ore e mezza con la macchina. Ciao a tutti!